Ciao Ilaria, complimenti, il titolo è ancora tuo. Beh intanto, ciao, sono contenta del titolo, ovviamente che la mia testa era un po' scontato però il tempo era più importante oggi, quindi non sono tanto contenta della prestazione, era un tempo benissimo la mia portata, purtroppo secondo me mi sono un po' persa nei dettagli tecnici, ho gestito un po' male le virate, l'ultimo 25 ho notato tutto sulla corsia, quindi secondo me era solo una questione un po' più di attenzione. Mi sono ritrovata per la prima volta in una situazione in cui mi giocavo una cosa abbastanza importante, cioè più che hanno una competizione internazionale e quindi forse è quello che mi ha un po' diciamo svoltato la testa, però va bene insomma, adesso bisogna prendere quello che è venuto e insomma la qualificazione è ancora possibile e spero bene di riuscirci perché insomma sono più che sicura che non valgo assolutamente questo tempo e voglio giocarmi qualcosa di importante anche in mondiale di quest'anno. Certo, allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie a tutti.